I soci di Acquedotto Pugliese S.P.A. hanno avviato in un'assemblea il procedimento di revoca per giusta causa dell'amministratore unico Ivo Monteforte. A darne notizia il presidente della regione Puglia, Nichi Vendola. La decisione, ha spiegato il governatore in una nota, attiene all'obbligo di osservanza e rilievi di legittimità formulati dalla Corte dei Conti e dal Collegio dei Sindaci in merito alla trasformazione, da tempo determinato a tempo indeterminato, del contratto dirigenziale di lavoro del direttore generale Massimiliano Bianco. È giusto precisare, aggiunge Vendola, che la vicenda oggetto del procedimento di revoca non pone in discussione i risultati di risanamento tenuti da Acquedotto Pugliese negli ultimi anni e la sua attuale solidità, riconosciuta da tutte le agenzie di validazione e dei numerosi premi ottenuti. Il procedimento di revoca e la nomina del nuovo amministratore, conclude la nota, avverrà in un'ulteriore assemblea che sarà riconvocata al più presto in conformità con le norme di legge e dello statuto.